Oggi è la festa del papà, ti hanno fatto gli auguri? Sì, sì, certamente mi hanno fatto gli auguri, sotto dittatura sicuramente della mamma. No, a farti gli scherzi sì, ma li hanno fatti e bene, due figliole, quindi doppio auguro di babbo. Roberto è un babbo speciale, lo incontriamo a Camucia, nell'Arettino, durante una pausa dal lavoro e ci racconta la sua storia. Diciamo che sono un babbo come tutti gli altri, l'unica cosa che ho cercato di darmi da fare è non aspettare qualcosa che arrivasse stando sul divano. Roberto è il babbo di Gaia che il prossimo 21 di maggio compirà 18 anni. Da quando era piccola è affetta da una patologia, la CMT di tipo 2A che colpisce gli arti coinvolgendo muscoli, nervi e ossa. Da qualche anno Roberto porta avanti il progetto Mito Fusina 2 del centro Dino Ferrari, l'associazione che sostiene e promuove le attività di ricerca scientifica. Con il suo omino del selfie, il logo gli è stato donato da un famoso grafico e al pari dei più seguiti influencer, ma nel suo caso lo scopo è ben diverso. Influencer a livello per solidarietà, per beneficenza, ho creato questo mino per ricondurre un attimino a quello che sto facendo in questi anni che è questa raccolta fondi che sto portando avanti da diversi anni per la CMT di 2A che è la malattia che ha mia figlia Gaia e quindi tramite dei ricercatori a Milano, all'associazione Dino Ferrari, stiamo lavorando per arrivare a una possibile terapia per bloccare questa malattia che è ancora molto rara e sconosciuta. L'idea più originale nel tempo sono stati i braccialetti, poi sono arrivati gli arbre magic e tanto altro. Persino i selfie sono serviti a raccogliere fondi. Gaia il 21 di maggio compierà 18 anni e per il suo compleanno vorrei regalare un ipotetico assegno virtuale di 100.000 euro all'associazione. Adesso ci sono nuove idee a cui pensare per arrivare alla cifra tonda di 100.000 euro. Chiunque può donare, seguendo Roberto sui social nella sua pagina, ci sono tutte le indicazioni.